Il racconto di padre Alexiai Una ventina di anni fa mi accadde di dover visitare, nella veste di ispettore privato, tutte le proprietà abbastanza numerose di mia zia. I parroci, ai quali credetti che fosse mio dovere presentarmi, si rivelarono persone tutto sommato banali, tutti tagliati sullo stesso modello. Alla fine, però, in una delle ultime proprietà che visitai, mi imbattei in un prete che non assomigliava ai suoi confratelli. Era un uomo molto vecchio, quasi decrepito, e se non fosse stato per le stringenti preghiere dei suoi parrocchiani, che lo adoravano e lo veneravano, avrebbe chiesto da tempo di essere messo a riposo. Due particolarità di padre Alexiai, così si chiamava il prete, mi colpirono in modo particolare. Innanzitutto, non solo non mi chiese nessun sussidio, ma al contrario, mi dichiarò francamente che non aveva bisogno di niente. In secondo luogo non avevo mai visto, sul viso di un uomo, un'espressione così triste, completamente indifferente, o, come si dice, rassegnata. I tratti del suo viso erano comuni, contadineschi. Una fronte rucosa, piccoli occhi grigi, un naso grosso, una barbetta a punta, la pelle scura e bruciata dal sole. Ma... l'espressione... l'espressione... Nello sguardo spento, brillava solo una scintilla di vita, e anche la voce aveva qualcosa di offuscato, privo di vita. Mi ero ammalato, e rimase a letto un po' di giorni. Padre Alexei veniva a farmi visita ogni sera, non per chiacchierare, ma per giocare a duracchi. Il gioco a carte pareva che lo distresse di più della mia compagnia. Una sera, in cui avevo perso diverse volte di seguito, cosa che aveva reso felice, Padre Alexei, portai il discorso sulla sua vita passata, su quei dolori che avevano lasciato su di lui una traccia tanto evidente, Padre Alexei per un po' si mostrò reticente, ma alla fine mi raccontò la sua storia. Qualche cosa in me gli era certamente piaciuta, altrimenti non si sarebbe mostrato così aperto. Cercherò di trascrivere il racconto con le stesse sue parole. Padre Alexei parlava in modo molto chiaro e semplice, senza tutti quei giri di parole caratteristici dei seminaristi o dei provinciali. Non era la prima volta che notavo come in Russia le persone di ogni certo e condizione, quando siano grandemente provate dalla vita fino alla piena accettazione di essa, si esprimano proprio in un linguaggio come quello. Avevo una moglie buona e saggia, cominciò. L'amavo con tutto il cuore e debbi da lei otto figli, ma quasi tutti morirono in tenera età. Uno dei miei figli è diventato arciprete ed è morto da poco nella sua diocesi. Di un altro figlio, Jakov, voglio ora parlare. Lo avevo mandato nel seminario d'IT e ben presto cominciai a ricevere sue notizie molto confortanti. Era il primo in tutte le materie. Anche a casa, ancora adolescente, si distingueva per il suo amore per lo studio e per la sua modestia. Spesso passava giornate intere, senza che lo si sentisse. Se ne stava con un libro in mano, a leggere. Non procurò mai, né a me né a mia moglie, il minimo dispiacere. Era proprio un ragazzo tranquillo. Solo, a volte, si perdeva in riflessioni, insolite per la sua età, e aveva una salute un po' delicata. Una volta gli capitò una cosa strana. Aveva appena compiuto dieci anni. Verso il giorno di San Pietro, una mattina all'alba, si era allontanato da casa ed era rimasto fuori per quasi tutta la mattina. Finalmente tornò. Mia moglie ed io gli chiediamo «Dove sei stato?» «Sono andato a fare una passeggiata nel bosco», dice. «E ho incontrato un vecchietto verde». Abbiamo parlato a lungo e mi ha dato delle noccioline tanto buone. «Ma quale vecchietto verde?» chiediamo. «Non so», dice. «Non l'avevo mai visto». Era un vecchietto gobbo, sgambettava in continuazione e rideva maliziosamente. «Tutto verde come una foglia». «Come?» chiediamo noi. «Anche il viso era verde?» «Sia il viso che i capelli!» «E anche gli occhi!» Nostro figlio non aveva mai mentito. Ma quella volta io e mia moglie dubitammo delle sue parole. Ti sarai addormentato nel bosco, in un angolo al sole e avrai visto quel vecchietto in sogno. «No, non mi sono addormentato, assolutamente», dice. «Ma se non mi credete?» «Ecco, in tasca mi è rimasta una nocciolina». Iacov tira fuori dalla tasca quella nocciolina e ce la mostra. «Una pallina della grandezza di una piccola castagna, molto rugosa, diversa dalle nostre solite noccioline. Io la misi da parte. Volevo farla vedere al dottore, ma non so dove sia finita. Poi non l'ho più ritrovata. Lo mandammo dunque in seminario e, come ho già detto, ci diede delle gioie con i suoi successi. Mia moglie e io pensavamo che sarebbe diventato qualcuno. Quando veniva a casa, in vacanza, era un piacere guardarlo. Era così bello. Non aveva nessun vizio. Piaceva a tutti e tutti si facevano i complimenti. Era però molto magro e il suo viso non aveva un bel colorito. Aveva compiuto 19 anni. Ben presto avrebbe finito gli studi. Ed ecco che d'improvviso riceviamo una sua lettera. Ci scrive Padre e Madre miei, non siete in collera con me. Permettetemi di scegliere la vita laica. Il mio cuore non ha una vocazione ecclesiastica. Ho paura delle responsabilità. Temo il peccato e in me sono nati dei dubbi. Senza il vostro permesso e senza la vostra benedizione non prenderò nessuna decisione. Ma vi dirò solo una cosa. Ho paura di me stesso perché ho cominciato a riflettere molto. Mi creda caro signore questa lettera mi causa molto dolore. Come se un pugnale mi avesse trafitto il cuore dato che vedevo che nessuno avrebbe preso il mio posto. Il mio figlio maggiore è monaco e quest'altro vuole rinunciare al suo posto. Ecco che cosa mi addolora ancora di più. Da circa duecento anni nella nostra parrocchia tutti i preti erano della nostra famiglia. Tuttavia penso non posso oppormi. Si vede che quello era il suo destino. E che pastore è se si lascia prendere dal dubbio? Mi consigliai con mia moglie e scrissi quanto segue. Figlio mio, Iacov pensaci bene. Prima di tagliare bisogna pensarci due volte. Nella vita laica ci sono molte difficoltà il freddo, la fame e il disprezzo per il nostro ceto. E sappi fin da adesso nessuno ti tenderà una mano e guarda bene di non dovertene poi pentire. Tu sai che il mio desiderio è sempre stato quello di vederti prendere il mio posto. Ma se tu hai dei dubbi sulla tua vocazione e vacilli nella tua fede allora non sta a me trattenerti. Si è fatta la volontà di Dio. Tua madre e io non ti rifiutiamo la nostra benedizione. Iacov mi rispose con una lettera riconoscente. Mi hai dato molta gioia padre mio. Ho intenzione di dedicarmi al lavoro scientifico e ho delle protezioni. Andrò all'università diventerò dottore dato che sono molto portato per la scienza. Dopo aver letto la lettera di Yasha diventai ancora più triste e poco dopo non avevo più nessuno con cui dividere il mio dolore. La mia vecchia si prese un forte raffreddore e morì. Se fosse per quel raffreddore o perché il signore amandola volesse prenderla con sé non lo so. Ho pianto povero vedovo solitario. Ma cosa potevo fare? Si vede che così doveva essere e sarei stato contento di finire sotto terra ma la terra è dura e non si spalanca. Aspettavo mio figlio perché mi aveva scritto prima di andare a Mosca passerò da casa. E fu così tornò alla casa paterna ma ci restò poco. Sembrava che qualcosa gli facesse fretta. Sembrava che volesse volare a Mosca alla sua cara università. Cominciai a interrogarlo sui suoi dubbi e sulla loro causa ma senza successo. Un solo pensiero gli si era ficcato in testa e profondamente. Voglio aiutare diceva il prossimo e se ne andò senza un soldo in tasca solo con qualche vestito. aveva tanta fiducia in sé e non ha torto. Superò l'esame benissimo entrò all'università e si trovò da dare lezioni in case private. Era molto bravo nelle lingue classiche e si figuri pensò di mandarmi del denaro. Questo mi diede un po' di gioia non per il denaro naturalmente il denaro glielo rimandai indietro e lo rimproverai anche. No ero contento perché vedevo che il ragazzo era sulla strada giusta ma la mia gioia non durò a lungo. Alle prime vacanze tornò a casa ma cosa incredibile non riconoscevo più il mio Jakov. Era così annoiato così malinconico da non tirargli fuori una parola di bocca e anche in viso era cambiato come se fosse invecchiato di dieci anni anche prima ma era timido non c'è che dire per qualsiasi cosa si intimidiva e arrossiva come una fanciulla ma quando alzava gli occhi si vedeva che ha l'anima limpida ora invece non è più così non è più timido ma selvaggio come un lupo e guarda tutti di traverso mai un sorriso mai una parola gentile una vera pietra quando lo interrogo o sta zitto o mi mostra i denti comincio a pensare che si sia dato al bere dio non voglia o forse è stato preso dalla passione delle carte o magari si è lasciato tracinare in una storia di donne quando c'è giovani i filtri hanno un effetto potente e poi in una grande città come Mosca i cattivi esempi e le occasioni non mancano ma no non sembra essere niente del genere beve solo kvas e acqua non guarda l'altro sesso e del resto non frequenta nessuno e quello che mi addolora di più è che non mostra più la confidenza di un tempo è comparsa in lui una specie di indifferenza tutto quello che prima gli stava a cuore ora lo esaspera cerco di portare la conversazione sulla scienza sull'università e anche su questo non riesco ad ottenere una vera risposta andava in chiesa però anche lì si comportava stranamente mentre dappertutto si mostrava cupo e severo in chiesa era come se fosse divertito rimase così con me circa sei settimane e poi ripartì per Mosca la Mosca mi scrisse due o tre volte e dalle sue lettere ebbe l'impressione che fosse tornato in sé ma si immagini la mia meraviglia egregio signore improvviso in pieno inverno ecco che compare a casa com'è possibile cosa è successo che cosa significa so che questo non è tempo di vacanze arrivi da Mosca gli chiesi sì e allora l'università ho lasciato l'università hai lasciato sì proprio così per sempre sì per sempre ma sei forse malato Jakov no padre mio dice non sono malato ma tutto quello che le chiedo padre mio è di non infastidirmi con domande altrimenti me ne andrò e non mi vedrà mai più aveva un bel dire non sono malato ma Jakov aveva un tale viso che mi spaventai un viso terribile rabbuiato quasi disumano le guance scavate gli tigomi sporgenti era tutto pelle e ossa una voce cavernosa e gli occhi di onnipotente che occhi menacciosi selvaggi sempre in movimento inafferrabili le sue sopracciglia agglottate le sue labbra contratte che cosa era successo al mio bel Josif al mio figliolo tanto tranquillo non riuscivo a capire forse è diventato pazzo pensai allora era come un fantasma non dormiva di notte e improvvisamente fissava con lo sguardo un angolo e sembrava impietrito era spaventoso poteva anche minacciarmi di andare via di casa se non lo lasciavo in pace ma ero sempre suo padre la mia ultima speranza stava crollando e io dovevo forse stare zitto ecco che un giorno approfittando di un momento favorevole mi misi a pregare Jacof con le lacrime agli occhi a scongiurarlo il nome della madre morta parla a tuo padre padre di sangue e di spirito Yasha dimmi che cos'hai non uccidermi spiegati apri il tuo cuore hai forse ucciso un cristiano allora devi pentirti ebbene padre mi dice all'improvviso il colloquio avveniva di notte sei riuscito a commuovermi ti dirò tutta la verità non ho ucciso nessuno ma la mia anima si sta perdendo ma in che modo ecco e allora per la prima volta Jacof alza gli occhi su di me ecco da più di tre mesi comincia ma improvvisamente si interrompe e comincia a respirare affannosamente che cosa da più di tre mesi parla non torturarmi sono più di tre mesi che lo vedo lo vedi ma chi vedi quello che non si può nominare quando scende la notte mi sentii gelare dalla testa ai piedi e fui preso da un tremito come gli dissi lo vedi sì anche adesso sì dove non osavo girarmi e parlavamo tutti e due a voce bassa laggiù ne indicò un punto con gli occhi laggiù nell'angolo raccolsi tutto il mio coraggio e guardai verso l'angolo ma non c'era niente ma là non c'è niente Jakov tu non lo vedi ma io sì guardai di nuovo ma di nuovo niente mi ricordai di colpo del vecchietto nel bosco che gli aveva regalato la castagna che aspetto ha dico è verde no non è verde è nero ha le corne no è come un uomo ma è tutto nero mentre parla di grigna i denti è pallido come un morto si stringe a me per la paura i suoi occhi sembrano uscire dalle orbite e guarda fisso verso l'angolo ma è l'ombra che ti sembra di vedere dico è il nero dell'ombra che tu scambi per un uomo come no vedo i suoi occhi ecco ora li fa roteare ecco ora alza la mano chiama Jakov Jakov se tu avessi provato a pregare questo maleficio sarebbe sparito che Dio risorga e i suoi nemici si disperdano ho provato dice ma non è successo niente aspetta Jakov aspetta non disperare brucerò dell'incenso dirò una preghiera e ti cospargerò con l'acqua benedetta Jakov mi rispose con un gesto scoraggiato non credo al tuo incenso né alla tua acqua benedetta non sono di nessun aiuto non posso più liberarmi di lui ormai da quel giorno maledetto in cui mi è venuto a visitare quell'estate da allora è sempre stato mio ospite e niente lo può scacciare devi saperlo padre e non devi più meravigliarti per la mia condotta e non tormentarmi più in quale giorno è venuto da te chiedo facendo continuamente su di lui dei segni di croce forse quel giorno in cui mi hai scritto riguardo ai tuoi dubbi Jakov allontanò la mia mano lasciami padre mio disse non contrariarmi se non vuoi aggravare le cose perché farai presto ad attentare alla mia stessa vita lei si può immaginare caro signore l'effetto che mi fecero queste parole ricordo di avere pianto tutta la notte come ho meritato una simile collera da parte del signore penso a quel punto padre Alexei tirò fuori dalla tasca un fazzoletto a quadretti e cominciò a soffiarsi il naso asciugandosi furtivamente gli occhi da allora come è stata difficile la nostra vita continuò avevo un solo pensiero come impedirgli di fuggire o io ce ne scampi di attentare alla sua vita sorvegliavo ogni suo passo ma avevo paura a riprendere la nostra conversazione a quel tempo abitava vicino a noi la vedova di un colonnello di nome Marfa Savishna avevo una grande stima di lei perché era una donna assennata e tranquilla anche se era ancora giovane e affascinante andavo spesso a trovarla e lei non disprezzava la mia condizione non sapendo più che cosa fare per il dolore per l'angoscia le raccontai tutto all'inizio si spaventò e ne restò sconvolta ma alla fine prevalse in lei la ragione riflette a lungo in silenzio quindi espresse il desiderio di vedere mio figlio e di parlare con lui capì allora che dovevo assolutamente soddisfare la sua volontà dato che non era la curiosità femminile a spingerla ma qualcos'altro tornato a casa cercai di convincere Iacov vieni con me dalla vedova del colonnello e lui faceva resistenza con tutte le sue forze non ci andrò diceva non ci andrò per niente al mondo di che cosa dovrei parlare con lei e cominciò a gridare contro di me ma io finalmente lo convinsi e attaccata alla slitta lo portai da Marfa Savishna e secondo l'accordo li lasciai soli mi meravigliai che avesse consentito così presto ma speriamo aspettiamo e vedremo dopo tre o quattro ore il mio Iacov tornò a casa allora gli chiedo cosa pensi della nostra vicina ti è piaciuta? ma lui non mi risponde e io di nuovo a stuzzicarlo è una donna virtuosa è stata gentile con te sì dice non è come le altre mi accorgo che aveva l'aria un po' più arrendevole e decido allora di fargli delle domande è il maleficio dico allora Iacov mi lancia uno sguardo sferzante e non dice più niente non insisto più ed esco dalla stanza un'ora dopo mi avvicino alla porta guardo dal buco della serratura che si immagini il mio Iacov dorme è sdraiato sul letto e dorme mi faccio diversi segni di croce signore benedici Marfa Savishna perché questa cara donna ha saputo commuovere quel cuore indurito il giorno dopo vedo che Iacov prende il cappello mi dico gli chiedo dove va ma no meglio non fare domande sicuramente andrà da lei in effetti andò da lei da Marfa Savishna e ci rimase più a lungo della prima volta e il giorno dopo la stessa cosa e il giorno dopo ancora la stessa cosa cominciai a sentirmi sollevato anche perché vedevo che il mio figlio avveniva un mutamento il suo viso era cambiato e lo si poteva guardare negli occhi senza che distogliesse lo sguardo c'era in lui la stessa tristezza ma era scomparsa la disperazione di prima la paura di prima ahimè prima che io riprendessi un po' di coraggio tutto crollò di nuovo Gacob si era di nuovo inselvatichito e non si poteva parlargli se ne stava rinchiuso nella sua cameretta e non andava più dalla vedova del colonnello forse forse pensavo egli l'ha offesa e lei non vuole più riceverlo in casa ma no pensavo anche se è infelice non ne avrebbe avuto il coraggio e anche lei non è il tipo ma non resistetti e alla fine gli chiesi ma allora Gacob la nostra vicina mi sembra che tu l'abbia dimenticata del tutto e lui cominciò a gridare contro di me la nostra vicina vuoi forse che lui si prenda gioco di me come dissi ed egli strinse i pugni con tutta la sua rabbia sì disse prima si accontentava di stare lì ma ora comincia a ridere e si burla di me battene esci di qui a chi erano dirette quelle parole non lo so ero così spaventato che a malapena riuscivo a stare in piedi si immagini il suo viso era rosso come il rame aveva la bava alla bocca e la voce rauca come se qualcuno lo strozzasse e io affranto lo stesso giorno andai da Marfa Savicina la trovai in preda una profonda tristezza anche fisicamente era cambiata era dimagrita ma non volle parlare con me di mio figlio disse soltanto questo che nessun aiuto umano poteva avere effetto in questo caso preghi padre mi disse e mi diede cento rubli per i poveri e i malati della sua parrocchia e di nuovo ripete preghi dio mio come se senza le sue parole non avessi pregato giorno e notte padre Alexei tirò fuori di nuovo il fazzoletto e si asciugò le lacrime ma questa volta non più di nascosto e dopo essersi riposato un po' riprese la sua triste storia da quel giorno io e Iacov cominciammo a scendere la china come una valanga di neve e tutti e due sapevamo che in fondo c'era il precipizio ma che cosa aggrapparci che cosa provare ancora e poi eravamo nell'assoluta impossibilità di nasconderlo nella parrocchia si era diffuso un grande turbamento e si diceva che il figlio del parroco era indemoniato e che bisognava informare le autorità e lo avrebbero sicuramente fatto se i miei parrocchiani bontaloro non avessero avuto pietà di me l'inverno era finito ed era arrivata la primavera ed io ci mandò una primavera così bella e luminosa che nemmeno i vecchi se ne ricordano una uguale sole per tutto il giorno senza vento e che tepore mi venne una santa idea convincere Iacov ad andare con me in pellegrinaggio a San Mitrofan a Voronès se quest'ultimo tentativo non riesce penso non ci resta che una speranza la tomba ed ecco che un bel giorno al tramonto mentre sono seduto sulla scaletta i meli sono in fiore e l'erba almova è tutta verde mentre sono seduto a pensare come comunicare a Iacov la mia proposta ecco che improvvisamente lo vedo sulla scaletta si ferma guarda respira profondamente e viene a sedersi vicino a me su uno scalino sono quasi spaventato dalla gioia ma rimango zitto e lui seduto sul gradino osserva il crepuscolo in silenzio mi sembra che una vaga commozione passi sul suo viso le rughe sulla sua fronte si sono appianate i suoi occhi sono più luminosi e sembra quasi che una lacrima stia sgorgando avendo notato questo cambiamento provai mio dio a parlargli Iacov dissi ascoltami senza arrabbiarti e gli raccontai del mio progetto di andare in pellegrinaggio da San Mitrofan da noi a Voroness saranno circa centocinquanta verste come sarebbe stato bello alzarsi prima dell'alba camminare in quella frescura primaverile camminare sull'erba verde sulla strada maestra vedi gli dicevo se noi ci prosterniamo e preghiamo per bene sulla tomba del santo chi lo sa forse dio ascolterà la nostra preghiera tu avrai la guarigione come è già successo tante volte e si immagini la mia felicità caro signore va bene dice Iacov senza girarsi e con gli occhi sempre rivolti al cielo sono d'accordo andiamo ero senza parole figlio mio gli dissi anima mia che consolazione e lui mi chiede e quando partiamo perché non domani rispondo e così il giorno dopo ci mettemmo in strada indossate le bisacce e preso il bastone da pellegrino partimmo camminammo sette giorni interi e cosa addirittura straordinaria con un tempo sempre favorevole né caldo eccessivo né pioggia né mosche né polvere negli occhi e ogni giorno l'aspetto di Iacov migliorava devo dirle che Iacov anche prima all'aria aperta quello non lo vedeva ma lo sentiva vicino dietro le spalle oppure gli sembrava che la sua ombra gli passasse accanto e questo lo allarmava molto ma quella volta non successe niente di simile e perfino nelle leocande dove dovevamo pernottare non gli appariva niente parlavamo poco fra noi ma com'era bello stare insieme e soprattutto per me vedevo il mio povero piccolo risuscitare sotto i miei occhi non posso descriverle mio caro signore quello che sentivo allora alla fine arriviamo a Voronès ci laviamo ci mettiamo in ordine e subito alla cattedrale dal santo tre giorni interi restammo nel santuario quante messe abbiamo ascoltato quanti ceri abbiamo offerto e tutto andava bene tutto andava a meraviglia le giornate passavano in devozione e le notti erano serene il mio Yasha dormiva come un bambino cominciò lui stesso a parlare con me a volte mi chiedeva padre non vedi niente e sorrideva no non vedo niente diceva allora neanche io non vedo niente diceva cosa chiedere di più la mia riconoscenza verso il santo era senza limiti passano tre giorni e dico a Iacov ebbene ora figlio mio tutto si è sistemato per noi è un giorno di festa non resta che una cosa da fare vai a confessarti e a fare la comunione dopo torneremo a casa con Dio e dopo che ci saremo riposati come si deve e avremo lavorato un po' a casa per consolidare le nostre forze ci metteremo in cerca di un lavoro o qualche altra cosa Marfa Savisna ci aiuterà di certo no dice Iacov perché disturbarla io le porterò un anellino che è stato sulla mano di San Mitrofan queste parole mi diedero coraggio attento prendi un anello d'argento e non uno d'oro nuziale il mio Iacov diventò rosso e ripete solo che non era il caso di disturbarla e accettò di fare quello che gli avevo detto il giorno dopo andammo alla cattedrale il mio Iacov si confessò dopo aver pregato con tanta devozione e poi fece la comunione stavo un po' in disparte e mi sentivo al settimo cielo gli angeli in cielo non erano certo più felici di me ma poi vedi qualcosa che mi lasciò esterrefatto il mio Iacov aveva fatto la comunione ma non era andato a bere il vino mi dava le spalle mi avvicinai a lui Iacov gli dico perché non vai si gira di colpo mi creda feci un salto indietro tanto mi spaventai altre volte il suo viso era stato spaventoso ma ora era diventato feroce terribile era pallido come la morte con i capelli dritti gli occhi storti per la paura persi la voce volevo parlare ma non potevo ero completamente paralizzato intanto lui si precipitò fuori dalla chiesa lo seguì e lui di corsa verso la locanda dove avevamo pernottato la bisaccia in spalla e via dove vai? gli gridai che cos'hai Iacov? aspetta fermati senza rispondermi una parola corse via come una lepre e di raggiungerlo neanche a parlarne infine sparì tornai subito indietro noleggiai un carretto e tutto tremante non riuscivo a dire altro che mio dio mio dio certo non capivo assolutamente la disgrazia che si era battuta su di noi mi avviai verso casa pensando che si sarebbe sicuramente diretto laggiù infatti alla sesta versta dalla città lo vedo camminare a lunghi passi sulla strada maestra lo raggiunsi saltai giù dal carretto e mi avvicinai a lui yasha yasha lui si fermò si girò verso di me ma i suoi occhi guardavano ostinatamente a terra e le sue labbra erano serrate e qualsiasi cosa gli dicessi restava immobile come una statua e respirava soltanto finalmente ripresi a camminare che cosa potevo fare se non incamminarmi dietro a lui ah che viaggio è stato quello mio caro signore tanto felice era stato il nostro viaggio verso Voroness altrettanto terribile fu il ritorno quando gli parlavo rigrignava perfino i denti proprio come fanno le tigri e le iene mi chiedo ancora come ho fatto a non impazzire ma ecco che finalmente una notte in una piccola isba di contadini mentre se ne stava seduto sulla panca con le gambe penzoloni e si guardava intorno io mi gettai in ginocchio davanti a lui e tra le lacrime lo implorai con preghiere piene di amarezza non uccidere gli dicevo non uccidere il tuo vecchio padre non portarlo alla disperazione dimmi cos'è successo lui posò gli occhi su di me ma sembrava che non vedesse la persona che gli stava davanti e improvvisamente parlò con una voce che ancora mi risuona nelle orecchie ascolta padre mi disse vuoi sapere tutta la verità allora eccola quando ho fatto la comunione tu ricordi e avevo ancora un pezzetto di pane in bocca all'improvviso lui in chiesa in pieno giorno si è drizzato davanti a me come se fosse spuntato dalla terra e mi ha sussurrato prima non aveva mai parlato sputalo e calpestalo e così ho fatto ho sputato e l'ho calpestato e ora quindi sono dannato per sempre perché qualsiasi peccato può essere perdonato ma non un peccato contro lo spirito santo e pronunciate queste terribili parole mio figlio scilosiò cadere sulla panca mentre io crollai a terra le gambe non mi reggevano più padre Alexei tacque per un momento e si coprì gli occhi con una mano ma continuò non voglio tormentarla e non voglio tormentare me stesso mio figlio e io ci trascinammo fino a casa e poco dopo egli morì ed io persi il mio Jakov prima di morire rimase qualche giorno senza mangiare e senza bere correva in su e in giù per la stanza e andava ripetendo che il suo peccato non poteva essere perdonato ma che lui non gli era più apparso ha dannato la mia anima diceva adesso cosa tornerebbe a fare e non appena Jakov si mise a letto prese subito coscienza e così senza pentirsi come un verme insensato lasciò questa vita per quella eterna ma non voglio credere che il signore abbia pronunciato contro di lui un verdetto severo e fra l'altro non voglio crederci neanche perché era così bello sdraiato nella bara sembrava ringiovanito e simile a Jakov di una volta il suo viso era tranquillo puro i suoi capelli erano arricciati e le sue labbra sorridevano Marfa Savishna venne a vederlo e disse la stessa cosa sistemò intorno a lui dei fiori e gli mise dei fiori sul petto e fece mettere una pietra tombale a sue spese e io sono rimasto solo ed ecco perché e grazie al signore lei ha potuto notare sul mio viso una grande tristezza essa non sparirà mai non può sparire volevo dire una parola di conforto a padre Alexei ma non trovai nessuna parola poco dopo ci separammo grazie a tutti